Ora lo possiamo dire Filippo D'Antonio, imprenditore terramano, editore di Super J e il nuovo presidente della città di Teramo. Ieri le dimissioni dei soci fondatori, subito la nomina dei nuovi soci a presidente appunto di D'Antonio. Sì, diciamo ieri sera anche un pochettino diciamo un po' a sorpresa perché i tempi sono stati veramente più ridotti quindi ringrazio anche per la collaborazione i dirigenti che c'erano prima, in primis il presidente Di Rastelli. Sono stati tutti quanti molto gentili e garbati nei miei confronti quindi mi sento di ringraziarli tutti quanti. È iniziata diciamo un nuovo inizio di una programmazione che naturalmente dovrà inizialmente pensare a tutta una serie di organizzazioni. C'è il quadro societario adesso da definire. Il quadro societario ma forse anche prima ancora anche trovare un luogo dove incontrarci, fare delle cose perché ecco ci sono delle caratterizzazioni che una società sportiva calcistica e soprattutto del capoluogo di provincia deve avere quindi ci saranno giorni molto frenetici, naturalmente il mio impegno è di incontrare nuovamente i soci che hanno rassegnato le loro missioni, cercherò di condividere con loro il progetto e se vorranno restare insomma questa sarà una bella cosa anche per Teramo. Ho avuto da parte di altri imprenditori la possibilità che possano entrare dentro questa società sarà il mio impegno di cercare di fare una compagine sociale più forte possibile che possa durare nel tempo e soprattutto che pensi al futuro cioè nel senso che il presente bisogna pensarci ma in prospettivo futuro quindi oggi è oggi ma dobbiamo pensare anche a domani non è il domani soltanto il campionato di calcio del prossimo annata e quindi fare un progetto un pochettino a più anni sarà difficile in questo momento perché diciamo partiamo quasi da zero per certi aspetti e quindi bisogna ripartire velocemente. Però lei ha già le idee chiare perché pensa ad esempio alla nomina per quanto riguarda l'aspetto societario e anche tecnico di un direttore generale successivamente il direttore sportivo e si valuterà anche l'ipotesi di un nuovo allenatore? Sicuramente sono per i ruoli, il rispetto ai ruoli quindi la prima cosa sarà creare una compagine sociale la compagine sociale naturalmente sceglierà il direttore generale dal direttore generale sceglieremo anche il direttore sportivo e così il direttore sportivo sarà la parte importante per scegliere anche l'allenatore quindi abbiamo già delle figure che ci sono state quindi naturalmente sarà da valutare tutto quindi questa è la cosa ancora che tra virgolette fa perdere tempo ci sarà da valutare una serie di cose che magari chi si trova già da una stagione iniziata finisce già ci sono delle certezze e qui diciamo in questo momento non è che è tutto in dubbio però diciamo va valutato tutto tutto un insieme di cose Presidente, con un sì o con un no il Città di Teramo giocherà al Bonolis? Io questo non lo posso dire il mio auspicio naturalmente è che giochi al Bonolis perché credo che è il campo della città di Teramo e quindi faremo di tutto farò di tutto per cercare di giocare al Bonolis Grazie Grazie